Il fenomeno del padel Il padel è diventato una sorta di mania collettiva, ha conquistato tutta Italia partendo da Roma e poi diffondendosi nelle grandi città e nei piccoli centri. Il padel è sicuramente una bella storia di sport ma è anche una bella storia di imprenditoria. Come ci spiega l'ospite che ci ha raggiunto in collegamento, ovvero Claudio Galuppini, fondatore di Italian Padel, prima azienda italiana per la costruzione dei campi da padel. Claudio, io ti saluto, ti ringrazio naturalmente per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a voi, interi spettatori, grazie a voi per l'invito. Ecco Claudio, diciamo subito che in realtà il padel è capitato nella sua vita, nella sua carriera professionale, un po' per caso perché in realtà la sua azienda, la Forjafer, come racconta del resto anche nella sua biografia Forgiato dalla vita, si occupava della costruzione di cancelli, di recinzioni. Poi nel 2008 c'è stata la crisi del settore ed è stato un po' costretto anche ad una nuova riconversione. Ma le chiedo, ecco, quando ha capito che il padel poteva diventare un vero e proprio fenomeno e anche un business? Beh, l'ho capito, ottobre 2015 quando mi è stato presentato da un amico comune e dal mio commercialista, anche suo amico, e invitato poi a provarlo a Roma, mi sono portato la famiglia anche per visitare Roma e abbiamo giocato con i figli che avevano al tempo età diverse, per cui Diana aveva 28 anni e Michael aveva 19, ci siamo divertiti tutti giocando e da lì ho capito che se riusciva a far divertire una famiglia con figli di età diverse, che non avevano mai praticato lo sport, avrebbe potuto in futuro diventare uno sport adatto a tutti. E da lì l'intuizione di trasformare così poi anche l'azienda. Eh certo, insomma, c'è stata questa componente un po' di destino, un po' casuale, che poi, come ha giustamente sottolineato, lei ha colto per poi trasformarla appunto in un vero e proprio business. Oggi diciamo che la dimensione proprio del fenomeno del padel è data proprio dal numero dei campi che, secondo gli ultimi numeri aggiornati, sono circa 4.500 in tutta Italia, molti dei quali naturalmente targati Italian Padel. Ecco, le chiedo, visto che voi e la vostra azienda si occupava letteralmente di altro, da chi avete imparato, insomma, da chi avete studiato per la costruzione dei primi modelli di campi da padel? Ma in realtà, visitando i campi appunto a Roma, che erano di provenienza spagnola, abbiamo capito che erano molto migliorabili da un punto di vista ingegneristico e produttivo. L'azienda era già abbastanza automatizzata nella produzione di cancelli e abbiamo dato il via così a quella che era la terza riconversione aziendale in 15 anni, perché la prima era passata da fabbro generico a produttori di ferro battuto, da produttori di ferro battuto a produttori di cancelli e recensioni standardizzate, per poi passare come ultima riconversione al padel. Devo rettificare il numero dei campi che hanno già superato le 6.200 unità e diciamo che grossomodo quelli realizzati da Italian Padel in Italia sono circa 1.700. Italian Padel in 5 anni ha realizzato oltre 2.500 campi, i restanti 800 sono distribuiti su altri 19 paesi del mondo. Eh sì, ha fatto bene a correggermi perché appunto sono numeri in realtà in costante aggiornamento. Noi lo vediamo anche qui a Milano praticamente in ogni angolo della città, spunta un campo da padel nuovo, una struttura nuova. E quindi ecco questo ci spiega la dimensione proprio di questo fenomeno che come abbiamo detto non è solo un fenomeno sportivo ma proprio è un fenomeno imprenditoriale e di business. Un fenomeno a cui hanno contribuito anche i VIP, soprattutto gli ex calciatori. Ricordiamo naturalmente ecco Francesco Totti, la sua grande passione per questo sport, Daniele De Rossi ma non solo altri VIP ex calciatori che hanno creato delle vere e proprie strutture come Albertine Casiraghi per quanto riguarda Milano appunto la loro padel arena. E così abbiamo l'esempio anche di Zlatan Ibrahimovic per quanto riguarda la Svezia. Ecco io le chiedo secondo lei quanto è stato importante questo contributo dei VIP degli ex calciatori nella diffusione del padel in tutta la penisola. E poi se ci vuole raccontare un aneddoto ovvero se le è capitato di giocare con qualcuno di loro. Beh allora partiamo dalla prima riflessione dove gli ex giocatori di calcio hanno dato grande visibilità a questo sport partendo da Roma prima con Totti ma poi anche Demetrio Albertine e Gigi Casiraghi hanno dato una grande svolta con i primi passaggi televisivi su Mediaset dove hanno portato il padel a essere conosciuto un po' dalla popolazione che ancora non ne aveva sentito parlare. Tant'è che io nel 2015-2016 quando iniziavo a parlare di padel in provincia di Brescia ancora era una cosa che sembrava una rarità, in pochissimi conoscevano. Poi sì ho avuto occasione di giocare con alcuni di loro, fare fotografie con ex giocatori di calcio, di partecipare a tornei. Non ultimo abbiamo appena smontato e abbiamo finito oggi proprio il Gran Premio a Monza con due campi itineranti dove ci hanno giocato le leggende del calcio da Candelà, Materassi, Di Biagio, Albertini, Costa Curta, Serginio e altri. Per cui questo è un po' quello che avvicina a tutti gli ex giocatori perché è uno sport che può essere praticato anche dopo alcuni infortuni o a un'età che non permette grande accessibilità e grande divertimento ad altri sport. Il padre invece permette ancora loro di usare il loro agonismo che mettono sempre con grande tenacia e grande divertimento perché rifanno le stesse sfide fuori dal campo di calcio. È vero, è verissimo, proprio l'accoppiata che lei ha nominato, grande divertimento da un lato ma anche grande competitività dall'altro. Sappiamo insomma di sfide proprio all'ultimo sangue tra non solo i VIP che giocano a padel ma anche tra la gente comune e inaspettatamente c'è stato un altro alleato oltre appunto agli ex calciatori nella diffusione di questo sport in Italia ovvero la pandemia perché lo sappiamo soprattutto nei due anni che abbiamo trascorso i ragazzi non potevano più praticare gli sport di contatto quindi il calcetto, il basket e hanno provato appunto questo nuovo sport, il padel proveniente dalla Spagna, dall'Argentina l'hanno provato e non l'hanno più abbandonato. Ecco, secondo lei qual è la magia del padel? Perché una volta che appunto si prova il padel non lo si abbandona più? Beh, uno perché è di semplice intuizione e perché permette ogni volta di fare un'analisi migliorativa su quelle che sono le prestazioni, il tiro, cioè a ognuno anche il profano viene voglia di correggersi perché vede che può migliorare e l'apprendimento è abbastanza veloce e avendo una battuta che parte dal basso e non dall'alto come il tennis non servono mesi di preparazione per imparare solo il servizio ma in realtà chiunque entra a giocare a padel dopo cinque minuti è in grado di buttare la pallina di là della rete, no? Come dico sempre anch'io scherzosamente con gli amici buttiamola di là che poi il problema è il loro. Eh sì, è certo, ecco, anche la semplicità quindi dal punto di vista proprio tecnico e questa è la differenza come ha sottolineato rispetto al tennis dove bisogna avere una base invece tra il servizio e il rovescio la vuole molto molto più complessa invece a padel insomma bene o male la palla va di là e poi se torna insomma è un problema poi dell'avversario ecco ma ritorniamo proprio al discorso imprenditoriale perché abbiamo detto il padel in realtà si è sviluppato in Spagna e in Argentina però ecco progressivamente ha conquistato il resto d'Europa, il resto del mondo in Italia sicuramente ecco voi avete la vostra base consolidata ma rispetto al mercato europeo verso quali paesi vi state rivolgendo? Perché ci sono un po' delle praterie insomma da sfruttare dal punto di vista del business o mi sbaglio? Assolutamente no, non si sbaglia noi adesso stiamo iniziando rapporti con gli Stati Uniti con l'Australia, Giappone, Canada, Morocco stiamo aprendo in varie nazioni perché il padel come appunto dicerei prima piace dappertutto, è universale, avvicina le persone, abbatte le barriere è molto social per cui praticabile anche da diversi tipi di disabilità tant'è che anche noi abbiamo un progetto proprio per verificare quali sono i benefici psicofisici di alcune disabilità siamo all'interno del progetto Cibo Sano per ogni bambino della Col di Retti con il Ministero dell'Istruzione che riparterà a novembre sulla provincia di Brescia dove i bambini di quarta e quinta elementare vengono accompagnati oltre a fare i corsi per una sana alimentazione vengono a provare il padel e a divertirsi e a capire questo sport che avvicina appunto perché bene o male si gioca in coppia e c'è modo di confrontarsi adatto appunto a tutti in entrambi i sessi dagli 8 agli 80 anni Eh sì, insomma uno sport che fa bene al morale che fa bene anche alla salute dei più giovani e anche appunto di una popolazione che è un po' più in là con l'età perché è uno sport molto democratico non ci sono delle barriere insomma di accesso ma ecco, torniamo appunto ancora agli affari perché gli affari per Italian Paddle in questo momento stanno andando molto bene io ho letto dal vostro sito che addirittura ricevete un preventivo praticamente ogni 15 minuti io quindi le chiedo ecco, soprattutto in prospettiva futura lei è tranquillo dal punto di vista imprenditoriale o teme un po' ecco che accada al Paddle quello che è successo allo squash cioè che sia un fenomeno temporaneo e che poi insomma con il passare del tempo questa moda tra virgolette diminuisca e quindi anche gli affari diminuiscano no, allora, non è una moda il Paddle è uno sport in grande crescita che fa di mi riunire un po' le richieste sono a livello nazionale la lentezza burocratica la mancanza di normative specifiche di regolamentazione nazionale per cui c'è ancora molta ignoranza dal punto di vista proprio di come vanno realizzati con quali normative e con quali permessi gli impianti da Paddle si sta lavorando anche per questo perché diversamente ci troviamo ad avere sul suolo nazionale dei prodotti non conformi rispetto alle normative italiane ma che però poi tolgono lavoro alle aziende serie che invece normative italiane producendo in Italia le devono per forza rispettare questo è un po' quello che negli ultimi tempi ha fatto diminuire la richiesta e ha allungato di molto i tempi per l'uscita del prodotto perché gli stessi gestori, imprenditori che stanno aprendo centri si trovano a dover fare i conti con una burocrazia che a volte va dai 6 ai 36 mesi per cui in 36 mesi un business riesce anche non dico a passare di moda ma a cambiare nel suo modo di impostazione in quello che sono i valori degli investimenti ma anche in quello che sono i ritorni poi degli investimenti stessi è certo la burocrazia è uno dei mali di questo paese lo diciamo non solo naturalmente per quanto riguarda la sua attività ma per molte attività imprenditoriali e poi giustamente la concorrenza sleale chi non rispetta a pieno le regole soprattutto le regole della sicurezza ecco dottor Galupini io le faccio un'ultima domanda proprio che riguarda la sua conversione e riconversione dell'attività che rapporto ha ormai con il cambiamento ecco quando le cose non si mettono bene insomma qual è ormai la sua reazione si è completamente abituato a vivere questa situazione di incertezza di necessità anche di cambio di cambiamento dell'attività oppure ormai ha costruito una sua solidità No guardi purtroppo le tre riconversioni e il grafico di Forgefer è un grafico con grandi cali e grandi crescite è molto anomalo nella normalità di un'attività tant'è che comunque in questo periodo devo dire che negli ultimi tre mesi sono molto diminuite le richieste del cliente che noi educhiamo a fare le cose in maniera giusta per cui la concorrenza sleale in questo periodo sembra vincere Noi cosa facciamo? Guardiamo avanti facciamo ulteriori investimenti anche in un rallentamento delle richieste ma perché? Bisogna guardare avanti diventando del tutto autonomi arriveremo ad avere un megawatt e tre di impianto fotovoltaico per divenire totalmente autonomi abbiamo appena acquistato un impianto di verniciatura di ultima generazione con la possibilità di tre tipologie di riscaldo metano, gpl o totalmente elettrico continuiamo con le automazioni continuiamo con apportare innovazione e soluzioni al mercato con palazzetti prefabbricati con platee prefabbricate l'unico modo secondo me è guardare già oltre la crisi che comunque è iniziata è una crisi trasversale stavolta non è settoriale prende chiunque visto gli aumenti dei costi di gas e di energia ed è una crisi che non lascerà indenne nessuno purtroppo e chiaramente bisogna guardare avanti bisogna trovare sempre innovazioni, soluzioni e anche lì siamo tornati proprio ieri dalla Fiena in Svezia dove abbiamo capito che costruire troppo bene anche in ambito padel è penalizzante per cui partiremo anche noi con una produzione di campi low cost che non saranno diminuiti in qualità ma verranno diminuiti solo in quello che sono rispetto agli altri paesi normative italiane troppo stringenti e poi non vengono fatte rispettare per cui troppo penalizzanti nel resto del mondo queste normative non sono richieste per cui cercheremo di fare un prodotto di alta qualità innovativo ma comunque a prezzi più accessibili Dovete affrontare ancora diversi ostacoli tra appunto la concorrenza, la crisi come ha sottolineato energetica che sta coinvolgendo naturalmente tutta Europa e che non lascia tranquillo nessuno quindi insomma c'è sempre da lavorare non si può stare sereni ma bisogna trovare una soluzione in più congegnare insomma un qualcosa di diverso praticamente ogni giorno ormai è la realtà che ci troviamo ad affrontare Dottor Galupini io la ringrazio molto per aver partecipato alla nostra trasmissione e essere stato protagonista di questo Instant Focus buon padel a lei e naturalmente anche a tutti noi Grazie a voi e buon padel a tutti Grazie Buona giornata Ringraziamo ancora il dottore Claudio Galupini fondatore di Italian Padel si chiude qui dunque questa puntata di Instant Focus mi raccomando restate sempre su Le Fonti TV perché la programmazione continua Grazie a tutti